Scusi, lei è la signora Enza? È la moglie dei figliolo? Il nuovo come stare a donare questa emergenza Covid? Senta, da moglie a moglie, le voglio chiedere una cosa. Ma questo vaccino AstraZeneca, lo possiamo fare o non lo possiamo fare? Perché così la gente gli mettete paura. Praticamente, prima avete detto sì, che si poteva fare, poi avete detto no. Poi avete chiesto il parere dell'esperto che ha detto sì, ma così la gente l'ha buttata in confusione. E' come se io dico, il caciocavallo lo potete mangiare perché tenete la vitamina D, e poi dice no, il caciocavallo si può morire, quindi è meglio che non lo mangiate. E' come se io dico, camminare un minuto al giorno fa bene la salute, e poi dice no, se camminare un minuto al giorno può rischiare la vita. Uno parla, se è sicuro parla, se no, no. Senta, ma questa cosa che ha detto suo marito, avrebbe detto, guardi, vaccinate chi passa, cioè per non buttare i vaccini in utilizzate. Secondo lei, che vuol dire? Perché io scendo sotto a casa, passa uno e mi dice, senta, mi è avanzato un po' di pasta con la malanzana, o un po' di vaccino. Che cosa vuole, la pasta con la malanzana o il vaccino? La pasta con la malanzana, che è più sicura. Certo, dipende da chi la fa. E' vero, è vero. Signora Enza, signora Enza. Allo... Allo... Al prossimo episodio